Allora ragazze, allora, sono messa questa magliettina qui, color, diciamo, marroncino, sì, e poi sotto, scusate le voci dei bambini, sotto c'ho questa gonna, che è fatta tutta così, ed è lunga a fine giù. Vediamo se riesco a mettere la telecamera, purtroppo, vediamo questa, aveva un organizzo un po' meglio, purtroppo non si vede tutta l'aereo del passato, è bellissima, e quindi questa a fine giù è fatta tutta così, è bellissima, questa non si va al fracca, vedete come è fatta? Io questa gonna sono innamorata di questa gonna qua, poi c'ho le scarpette sotto basse, lo stesso colore di questo qua, e poi mi sono messa questi orecchini, mi sono messa, ok, questi orecchini qua, che ho fatto sempre io, carini, mamma mia, le zanzare mi hanno mangiata, e mi stanno continuando a mangiare, ragazzi, e quindi questo mi dispiace che non si vede tutto il... Ecco qua, e niente, il rosetto è sempre quello della bottiglia verde, e perché da là, ragazzi, si vede troppo in lontananza, e niente, poi mi organizzo, e quindi, questo è l'office che mi sono messa oggi, che questo dovrebbe andare lunedì, questo qui, vi faccio vedere lunedì, mi mando un bacio, Alla prossima video!